Alessandra Amoroso finalmente la verità sulla sua situazione sentimentale. Ecco cosa si cela dietro i suoi sorrisi. Una delle cantanti che hanno lasciato il segno indelebile nel mondo dello spettacolo, conosciute per il suo talento e la sua straordinaria voce è proprio lei, la bellissima Alessandra Amoroso. Un successo clamoroso per via della sua partecipazione al talent Amici, con cui si è aggiudicata la vittoria e per quello che negli anni ha saputo creare con i suoi brani spettacolari. Nonostante tutto, finalmente una verità circa la sua vita privata viene a galla solo ora. Scopriamo insieme i dettagli. Originaria della Puglia, precisamente di Galatina in provincia di Lecce, Alessandra Amoroso sin da bambina si appassiona al mondo della musica, tanto da coltivare il suo grande sogno di cantare. Pian piano, si avvicina al mondo dello spettacolo partecipando a diverse competizioni canore tra cui Fiori di Pesco nel 2007, nel 2009, invece, partecipa ad Amici aggiudicandosi la vittoria e venendo apprezzata per il suo brano immobile, che ottiene persino il premio della critica. Oggi è una cantante molto affermata e nota soprattutto per i brani di successo che hanno regalato emozioni indescrivibili a coloro che le ascoltano. Qualche tempo fa, la donna ha fatto anche una rivelazione inedita circa la voglia di prendere i voti rivelando. Da ragazza facevo la chierichetta e cantavo nel coro della parrocchia. Ho molta fede. I miei portafortuna sono una medaglia della Madonna e una di Sant'Antonio, che mi sono state regalate da mia nonna. E, vero che ho pensato di farmi suora, Alessandra Amoroso dalla musica all'amore. Ecco cosa è cambiato nella sua vita. Nel corso della sua splendida carriera, Alessandra Amoroso è riuscita a tenere l'attenzione su di sé proprio con i suoi brani di successo, oggi conosciuti e apprezzati in Italia fra milioni di fan che la amano e la seguono in ogni suo concerto o apparizione televisiva. Circa la vita sentimentale, invece, la donna ha sempre cercato di teerla lontana dai riflettori, ma oggi è arrivato il momento di dire qualcosa in più. Infatti, l'amoroso è tornata a vivere a colori dopo la cocente delusione con l'ex fidanzato Stefano Setepani. Infatti, la donna ha rivelato che il suo cuore è tornato a battere aggiungendo che sente che questo è quello giusto. Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato in realtà. Speriamo possa continuare così, ha rivelato a Cosmopolitan. Come abbiamo anticipato, Alessandra amoroso, è nuovamente innamorata del suo Valerio Pastore, con cui sta vivendo appieno una nuova felicità. La stessa ha confessato. È stato per me una grande scoperta anche per me stessa. Ho scoperto un nuovo modo di amare, ma soprattutto di essere amata, e io non lo conoscevo. La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera. Siamo molto liberi, e questo per me è la chiave di tutto. Non lo sapevo ma adesso lo so, non ho nessun vincolo, sono libera di essere quello che sono, di fare quello che mi va di fare, nella condivisione piuttosto che no, di essere me stessa con tutti i miei colori, non ho freni, sempre ovviamente nel rispetto dell'altra persona.